Buongiorno, siamo alla farmacia della dottoressa Grusi, in Levata, e sì, visto che ieri qui ha fatto molto caldo, in effetti c'è stata una richiesta di sali soprattutto, e qualche anziano è venuto a provare la pressione, e più che altro, insomma, noi consigliamo di combattere il caldo, appunto, non uscendo nelle ore critiche, dalle mezzogiorno alle 5, le 6, poi di, appunto, assumere sali, più che altro, sempre magari chiedendo consiglio al farmacista o al medico perché i sali, comunque perché è iperteso, bisogna stare un attimo attenti, bere tanta acqua, sui due litri, circa un litro e mezzo, due litri al giorno, e mangiare frutta, verdura, non cibi pesanti o grassi, e cercare, sì, soprattutto di non esporsi nelle ore più calde, quello è importante.